Appot, Associazione Produttori Ortofrutticoli Trentini, ha organizzato un incontro con la comunità per approfondire e fare il punto con l'aiuto di esperti del settore sul tema della sostenibilità. Tema caldissimo in questo momento in tutti i paesi sia della parte mediterranea che della parte del nord Europa, grandissima attenzione alle caratteristiche delle produzioni soprattutto il biologico che è la produzione considerata più sostenibile anche se man mano procede lo sviluppo del mercato come ad esempio Germania che è leader in questo tipo di prodotti si viene ad avere un minore interesse relativamente agli aspetti di sostenibilità e maggiormente rispetto a tutti quelli che sono i connotati del prodotto. Si sta lavorando molto su una spinta all'agricoltura biologica e questa è una buona cosa, non è l'unico modo per declinare la sostenibilità, non dimentichiamoci però che sostenibilità per un territorio montano significa anche avere la possibilità di viverci e di lavorarci in questo territorio. Stiamo proseguendo questo percorso, noi l'abbiamo sottolineato tante volte, trattasi di un percorso che è volto da un lato a dare valore agli impegni ai progetti che stiamo realizzando passati e anche futuri ma anche a comunicarli in maniera che la collettività sappia quello che il mondo agricolo sta facendo con questi obiettivi di salubrità del prodotto, salubrità del lavoro, sicurezza del lavoro, salute dell'ambiente e così via. A livello regionale penso che da decenni stiamo lavorando su questo, ricordo la lotta integrata, eravamo pionieri al suo tempo ed è certo che con una coltivazione intensiva di mele e di vino e quindi un alto ammontare di pesticidi che comunque vanno a finire sui nostri campi, bisogna stare attenti e bisogna essere all'avanguardia dell'innovazione. La provincia sostiene profondamente atti amministrativi ed azioni in questo senso al punto che in questo bilancio 2018 sono state inserite per finanziare attraverso la legge 4 opportunità di investimento relative proprio a questo tema.